Nella quinta giornata del campionato di eccellenza, alla cittadella dello sport di San Giovanni Tiatino, San Buceto batte Pontevomano con il risultato finale di 2-1, al termine di una partita equilibrata, maschia e divertente. La spuntano i padroni di casa all'esordio in panchina per Mister Ronci ed in campo per Stefano Bomber Miccichè, semplicemente straripante. Con le immagini di Danilo Di Giandomenico passiamo agli elesti della partita. Pronti via e dal primo minuto il Pontevomano si affaccia in avanti, punizione di Polisa in alta sopra la traversa. All'ottavo però il San Buceto passa improvvisamente in vantaggio, bella la rifinitura dalla destra di Bruni. Per Miccichè è troppo facile infilare Farnese dalla corta distanza. Appena arrivato, il numero 17 ricorda a tutti di che pasta è fatto, timbrando immediatamente il tabellino. E ancora Miccichè che ci riprova al ventunesimo, stavolta di testa, pallone di un soffio largo. La reazione del Pontevomano è affidata al tandem Polisena Di Stefano. Al trentaquattresimo, il colpo di testa del numero 9 giallonero esce di poco. È soltanto l'antipasso del gol che arriva tre minuti più tardi. Cross dalla destra che sbuca sul secondo palo, dove Basilico è il più lesso di tutti a ribadire in rete di testa ristabilendo il risultato di parità. Neanche il tempo di festeggiare, però, che a rientro dagli spogliatoi Viola si riportano immediatamente avanti. È il sesto, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone spiove pericolosamente sul secondo palo, dove c'è... il solito Micicché. Stop di petto e destro di controbalzo a punire ancora Farnese. 2-1 alla cittadella dello sport. Trascorrono appena due minuti e Marchionne all'occasione del Tris, ma il suo diagonale, da posizione defilata, è piuttosto centrale. I terramani non ci stanno e si aggrappano a Di Stefano. Il suo fendente in bello stile accarezza il palo e si spegne sul fondo. Al ventiquattresimo, Dedeo si immuole in uscita bassa su Polisena, accasciandosi per qualche minuto a terra a seguito di un contatto fortuito. Passato lo spavento, il numero uno locale riprende regolarmente il posto tra i pali. Alla mezz'ora è Barro a suscitare qualche brivido sulla schiena dei tifosi di casa. Il suo colpo di testa, dall'altezza del primo palo, per poco non si insacca nella propria porta. Dall'altra parte Marfisi ci prova dalla lunga distanza senza destare particolari preoccupazioni. Più interessante, il mancino di Leonzi. Si distende Dedeo. Gli assalti finali dei gialloneri sono piuttosto confusionari e non sortiscono gli effetti sperati. Marfisi e compagni controllano senza troppi problemi e la gara scorre via fino al triplice fischio. Tre, come i punti conquistati dal nuovo Sambuceto, Targato Ronci e Miciche. Ancora zero invece. I punti in classifica del Ponte Romano dopo cinque giornate. Sì sì, ripeto, sapevamo che era una partita difficilissima, che loro ci venivano a prendere alti perché anche loro avevano bisogno di tre punti. Questi segni fanno parte del gioco, l'importante è aver portato tre punti a casa. Allora, intanto il gol, quello che è più bello è sempre quello che ti fa portare a casa i tre punti, quindi il secondo sicuramente. Diciamo abbiamo giocato con un 3-4-3 inizialmente e ovviamente è un modulo nuovo per noi che stiamo cominciando a fare da poco. Poi siamo passati a 4-4-2 in corso d'opera perché ovviamente ancora ci vuole un po' di tempo prima che capiamo bene i meccanismi che vuole il mister, però ripeto, l'importante è lo spirito che ci ha messo la squadra e questo ha fatto sì che siamo riusciti a portare a casa tre punti. I obiettivi personali io non me ne pongo mai, l'importante è l'obiettivo di squadra, poi se riesci a raggiungere l'obiettivo di squadra è in automatico molto probabilmente fatto bene anche tu personalmente, quindi è quello credo la cosa che conta di più. Purtroppo questa è una costante che ci portiamo dall'inizio, paghiamo troppo delle disattenzioni, è vero che la squadra è giovane, però non è questo un attenuante. Dobbiamo migliorare, dobbiamo crescere perché in eccellenza gli errori si pagano, noi attualmente abbiamo zero punti nonostante su cinque partite almeno tre ne abbiamo disputate secondo me abbastanza bene. Il mister sicuramente adesso è demoralizzato, però da martedì ci dobbiamo rimboccare le maniche, dobbiamo migliorare su tanti aspetti, sia a livello difensivo e sia a livello offensivo. Speriamo di aggiustare un po' la squadra con qualche innesto, vediamo, siamo un po' alla finestra sul mercato per vedere cosa succede. Purtroppo per adesso è così, ci dobbiamo rimboccare le maniche, basta.